Musica Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di Battle4Games Io sono Carlo e oggi siamo qua tornati su Battlefield 3 Per un altro gameplay del Road to First Place ragazzi Allora ragazzi siamo qui con Voglio riutilizzare l'Auga A3 Non mi ricordo l'arma che avevamo Utilizzato nella scorsa partita Aspettate un attimo che siamo già in pericolo E comunque sia Oggi ragazzi utilizzerò l'Auga A3 Perché è un'arma che mi piace abbastanza su questo gioco Mi sembra abbastanza bilanciata Guarda il camperino lì su No 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 Mi ha tirato un missile in faccia Poi mi ha ucciso quello di dietro con l'A91 Non va bene ragazzi Siamo già partiti male in questa partita Comunque sia ragazzi siamo sempre sul canale di Norshar Team Deathmatch ha 400 ticket L'obiettivo di questa serie come sempre è arrivare primi Ro Non lo so qui Non hai più la testa Mi dispiace per te ma non hai più la testa Non ci voglio credere No 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 c'è il tipo Ma sono tutti camperati su sto server Ragazzi No non va bene Cambiamo arma Cosa mi metto ragazzi Proiecto il FAMAS Non mi ricordo se l'avevano bilanciato A un ratio della madonna Non mi ricordo se l'avevano bilanciato Oppure Ancora tutto quel rinculo che avevo una volta Lo scopriremo subito ragazzi Andiamo a trovare un nemico Tipo lag E vabbè però contro l'RPK Non va bene Non va bene Allora Adesso mi impegno E' un po' che non gioco ragazzi Quindi magari non faremo un gran score Mamma mia E' overpowerissimo il FAMAS Magari non faremo un grandissimo score Però vabbè ragazzi dai Torneremo presto con un altro Road to First Place Mi sto anche impappinando Aspettate aspettate Fugatela Fugatela Dai ricarica Ci mette due giorni Ricaricare Io pensavo di aver fatto una doppia raga Ci mette due giorni ricaricare Ecco forse l'unica pecca di quest'arma Allora se io però Inizio anche a rianimare Magari Faccio qualche Questo qui lo devo accoltellare Scusa Leee Ragazzi Almeno una coltellata partita ci sta Anche quello di No Dai Non lo ricarica Mamma mia ragazzi Ci mette tre giorni Mamma mia per fortuna sono amici Ci mette due giorni per ricaricare Ok questo è morto Tanti rianimo Quell'altro C'è una granata Oh mio Da dove è saltato fuori questo? È comparso dal nulla Prima non c'era Vi giuro che prima non c'era Ok quanto siamo? Siamo ultimi? WTF WTF Non muore Ha pochi colpi anche Ok è morto Per fortuna è morto Ragazzi siamo ultimi No ok Terzo ultimi Stiamo già salendo Ok Se la possiamo fare ragazzi Almeno fare uno score decente Perché sto ritornando a giocare Su Battlefield 3 Dopo almeno un mese Cioè Dallo scorso episodio Non giocavo a Battlefield 3 Ok questo qui ovviamente Non l'ho ucciso io Perché mi sembra giusto Ok questo è amico No No Non va bene Sono tutti overpower Su sto server Quindi Io cambio arma E mi metto Mi metto Mi metto Non lo so ragazzi Perché l'EK Non mi ricordo più Com'era l'EK Se era overpower No ragazzi No non va bene Stiamo facendo cagare 7 8 7 8 Non va bene 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 Road to fourth place Che arrivo ultimo Cacchio è Cioè no Io mi rifiuto Tu sei morto Ti ho sparato 900 colpi Per fortuna Ok Qui lagga ragazzi Questo amico Io No bloccatemi Si dica Aspettate qui qua Ok Kit medico Grazie Ricarica sto cazzo di fucile E tiria animo Bella Ah no Pensavo di averlo ucciso Con Il defibrillatore Questo è morto Sto facendo La strage Ragazzi Sto rifacendo L'avitudine Ti rianimo Via Fungatela L'ho ucciso L'importante è che però Allarararsi l'ho ucciso E guardate come stiamo salendo Siamo decimi 1800 punti Vai Di qua Facciamo il giro Che mi sembra che ce ne fossero qua Esatto Oh I miei marker Avete visto che non ho aiutato niente Doppia rianimazione Easy No Singola Perché mi ha trollato Kit medico Questo qui è il mio caro kit medico Di fiducia Ormai Me la campro un attimo Vieni fuori Vieni fuori Se le palle Ero il mio alleato Però ti rianimo No Vaffanculo Non vogliono essere rianimati I miei compagni Ok Come non ho detto Mi uccidono anche quelli di livello 19 Granata tattica Perché mi sembra giusta la granata tattica Che ovviamente non uccide nessuno Oh mio dio Ho ucciso uno Non ci voglio credere No La granata Fuggiamocela perché non va bene Qua c'era Quante kill C'erano tre kill Semplicissime Ne ho fatta solo una Non ci voglio credere Però siamo ultimi L'importante è quello ragazzi Giuro che Mi sto impegnando eh Tu muori Grazie Tu ti rianimo Poi fuga Aiuto C'era troppa roba da fare In troppo poco tempo Dovevo uccidere Rianimare Fare troppa roba Ok Questo muore come minimo Grazie Poi ti rianimo Bella Punti easy Questi sono tutti punti easy ragazzi Non mi interessa dello score Se muoio anche Se muoio Posso morire anche Altre 130 volte Posso fare anche il record Delle morti su battlefield 3 Però l'importante è arrivare ai primi Questo Cosa pensa di fare Vecchio Cioè Non è che mi trolli eh Non sono mica cieco Aspettate che c'è uno qui da rianimare Molto easy E poi fugga dalla preghazione di dietro Ok Non ho fatto No mi ha ucciso la granata Non ci voglio credere Però siamo settimi Stiamo rimontando Stiamo rimontando Dai No 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 Porca troia No Oh la EK però ragazzi È potenza È potenza Dai Andiamo di qua Questo muore Grazie Anche no Quello è amico È meglio lasciarlo vivo dai Ricarica È ricaricato Grazie Tu muori Grazie Fugga La ricarica Muoviti veloce Ricaricare quell'arma Dai Ok Non c'è qui nessuno Andiamo di qua Sì Cosa c'è un Serpente Qua È morto Sì Vabbè mi ha one shotato Quell'F2000 One shotta Ragazzi L'avete visto che mi ha one shotato Questo muore Grazie Grazie Io ringrazio sempre Quando li uccido Perché Fanno favore Quindi io li ringrazio Perché sono gentile Grazie Vedete No vabbè Ok Niente qua che non c'è nessuno Sono tutti di là Quindi buona Ti lascio Un kit medico a te Perché così mi faccio qualche puntazzo Ma magari mi curo anche io Poi vado di qua Poi c'è un ninja Che Che vola Che cosa pensa di fare Il ninja che vola Una granata Io c'ero sopra Sono esploso Regà Volevo rianimare il mio amico Siamo morti in due Anche se lui era già morto Però vabbè Regà Sono dettagli Quello è morto Non mi ucciderete Tu morirai Ed è morto Quando dico che morirà uno E mi hanno anche rianimato Mi hanno anche rianimato Ok sono morto Mi hanno rianimato un'altra volta E voglio fare Sì Ok basta Non voglio fare il coglione Quindi però vabbè Oh ma che cacchio sta succedendo Regà Ok Mi bloccavano Quanto siamo? Settimi ancora Dio L'ho ucciso Uno l'ho seccato però Sì vabbè ragà Ma guardate i punti Che c'hanno i primi 6.000 Io ne ho 4.000 Neanche Non ce la faremo mai Ad arrivare i primi Perché sono enterato Che era già iniziata la partita Ah eh eh Andiamo di qua Quella è Ci stiamo sparando tra alleati Ok l'ha stuprato Ci ha pensato lui a stuprarlo Adesso vado di qua Poi vado di qua E poi non mi uccideranno Perché io posso Guarda Quante chi doppia Tiri animo Fuga Ok Kit medico È finita la partita ragazzi Cerchiamo di fare l'ultima kill Ricarica veloce Nooo Oh ma fanculo ragazzi Non ce l'abbiamo fatta Mi sa Vabbè Era ovvio che ormai Che non ce l'avessimo fatta Siamo arrivati i settimi 27-19 Beh abbiamo fatto Alcuno score decente Almeno Che dire ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto È stato abbastanza uno sclero Perché c'erano abbastanza camper Armi overpower Armi che one shotavano Dove cavolo è stati Ah qua LOL Vabbè La gava Non lo so Vabbè Siamo arrivati i settimi Non quinti Perché qui hanno quitato delle persone Comunque sì ragazzi Ci riproveremo Al prossimo video Io spero che vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Per supportarci al 100% Commentatemi qui sotto Se vi piace questa serie Scrivendomi Cosa ne pensate Basta ragazzi Non ne posso più Non ho più voce Non lo so Vabbè Io vi saluto Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao